Cosa penso alle volte? Io sono stato quattro anni lì, in quel mestiere lì, e avevo il 53%, io ho fatto quattro anni con una maggioranza interna del 53%, e tuttavia qualche risultato c'è stato, non so, vincemmo da Treviso a Arcore fino a Catania, per amordire. L'ingaretti ha il 70%, può essere perfino troppo, perché ci sono delle dinamiche dentro i partiti dove deve scattare anche l'idea che devi giocartela, che devi scommettere, che devi tirare. È più facile che ti venga se sei sul baratro. Hai capito? Questo è una cosa che magari è una sciocchezza, però... Chi accusa Zingaretti di scarso coraggio ha qualche ragione? Ma insomma, secondo i punti di vista, in alcuni casi lo accusano di scarso coraggio perché ha fatto l'accordo per sostenere il governo Conte. Io la ritengo una stupidaggine. C'è chi dice che lo accusa di scarso coraggio perché invece, come sto dicendo io, non ha aperto abbastanza le cose. E lui ce l'ha il coraggio, il problema è dove lo mette, se gliel'era lui dove metterlo. Insomma, io non voglio andare oltre questo. Lei si è dimesso, no? Cioè le dimissioni di un leader, di un segretario del PD sono irrevocabili tendenzialmente? Cioè, cosa sono le dimissioni? Ma insomma, lo statuto dice che quando uno si dimette la palla passa all'assemblea. Che può? O chiedere il ritiro e ottenerlo, se il sindacale, se il segretario, oppure fare un reggente, un segretario fino al congresso. E poi ci sono le scelte. Io anch'io sì mi sono dimesso. Mi sono dimesso la sera stessa dei 101. Sapendo bene che in quella operazione c'era far fuori sia Marini che Prodi, ma anche far fuori me. E fu la cosa che aprì la strada poi a Renzismo, sostanzialmente, quella fase lì. E io non intendo... Lo sapevano che io ero fatto così, quelli che mi hanno fatto la trappola. Ce lo sapevano che se dicevo me ne vado, me ne vado. Perché ognuno è fatto al suo modo. Io sono andato e sono andato. Basta. Perché sai, quando sono fatti seri quelli lì, perché quando in un'assemblea dici, l'assemblea degli elettori, il Presidente Repubblica, fai una proposta e ottieni l'unanimità con applausi sulla proposta e poi nei voti te ne manca un terzo, a me non lo fanno quello scherzo lì. Si è chiaro. E sono andato. E avrei anche potuto ricandidarmi il congresso contro i 101. Ma si sarebbe spaccato... Avrei dovuto dire nome e cognome degli 101. Sapevo una quarantina, una cinquantina. Però non l'ha mai fatto. No, mai. Perché? Perché? Perché il tuo partito restava, insomma, il tuo partito e io non volevo portarlo. Quindi c'è anche sempre dentro, immagino anche in Zingaretti, insomma, no? Questo senso di responsabilità verso una compagnia. Beh, insomma, però lei dice hai il 70%.